ciao spero siate in forma sappiamo molto bene che queste tecnologie all'avanguardia sono tra quelle che preferisci ecco per te un piccolo top di cinque gadget che ti impressionerà sia originali che utili i gadget di questa tecnologia avanzata potrebbero farti impazzire sentiti libero di mettere mi piace iscriverti al canale e attivare la campanella e soprattutto di vedere i link nella descrizione andiamo sia omi pro 300 mbps wireless iniziamo subito questa puntata di tecnologia con un piccolo prodotto che è allo stesso tempo interessante e poco costoso e che sarà utile a tutti coloro che soffrono di problemi di connessione a internet l'amplificatore sia omi pro wifi grazie a questa piccola scatola nera a un aspetto piuttosto moderno di design sarà in grado di catturare internet e rimanere in contatto con il mondo da qualsiasi luogo questo amplificatore intelligente risolverà perfettamente i problemi di perdita del segnale o perdita di connessione che si verificano in alcune persone che vivono in aree spesso rurali con scarsa connessione con una piccola antena di 2x2 dbi integrata e una velocità di trasmissione di 300 mbps la tua rete wireless sarà molto amplificata ovunque ti trovi in casa o in appartamento se vivi in una grande casa e alcuni angoli e fessure finiscono al di fuori dell'ambito del wifi sia omi pro 300 mbps wireless sarà la soluzione migliore al prezzo più basso infatti l'oggetto è disponibile su amazon per poco meno di 16 euro non è molto costoso quando conosci l'importanza di una connessione internet fluida in casa il prodotto è dotato di due potenti antenne esterne che estendono la portata del segnale wifi che garantiscono una migliore stabilità della rete è disponibile una funzione wireless che aumenta la copertura con un segnale forte anche in un'area di rete debole il prodotto è compatibile con un router di altre marche e può supportare fino a 64 dispositivi tv scatola iphone tablet aspirapolvere intelligente orologio collegato eccetera puoi assolutamente collegare tutto con il suo design per la presa a muro occuperà pochissimo spazio e sarà super semplice e veloce da installare se stai cercando un piccolo gadget che ti permetta di avere una connessione perfetta per guardare i video del mio canale non cercare oltre wonderboom appena più grande di una mela questo diffusore wonderboom di un ultimate tears offre un suono incredibilmente potente per un diffusore di queste dimensioni che non ti lascerà indifferente è particolarmente impermeabile fino a 10 metri di profondità il che ti consente di ascoltare la musica gettandola in piscina questo oggetto è stato testato da molte persone in contesti diversi e vari ma le recensioni che possiamo vedere ovunque sono sempre molto positive commercializzato ad un prezzo che varia dai 49 ai 59 e 99 euro questo diffusore è relativamente economico quando conosci la sua incredibile resistenza con la sua potenza di 86 decibel questo diffusore è disponibile in diversi colori come verde rosso nero arancio blu grigio rosa ma anche con design con motivi originali con le sue 10 ore di durata della batteria ha poco da invidiare agli altoparlanti concorrenti sul mercato che si tratti di andare in piscina sciare a box a ballare a scuola o altro questo recinto si adatta al tuo ambiente sarà in grado di resistere a tutto ciò che potrebbe accadirti mentre l'altoparlante wonderbomb è una singola unità può essere accoppiato con un altro altoparlante wonderbomb per raddoppiare il suono questi possono lavorare insieme per produrre un suono eccezionale questo può essere estremamente interessante se uno dei tuoi amici o un amico dello sport ha un altro amplificatore dello stesso marchio e Snapchat Spectacles 2 Nico Continuiamo questo top con un prodotto di cui sicuramente avete già sentito parlare perché al momento della sua presentazione aveva già fatto un gigantesco ronzio gli occhiali collegati della famosa applicazione mobile Snapchat forse dovremmo piuttosto parlare di brusio perché in effetti un certo numero di persone al momento del rilascio di questi occhiali ha iniziato a criticare il fatto che potrebbero essere potenzialmente utilizzati per filmare persone all'ora in sapore che è completamente illegale tuttavia utilizzati con rispetto e nella legge questi occhiali da sole Snapchat collegati sono davvero fantastici e dobbiamo presentarli in questo top il principio è semplice e divertente sono occhiali da sole con una mini fotocamera che ti consente di realizzare brevi video da 10-30 secondi da condividere su Snapchat ma che puoi anche tenere sul telefono sia per girare un amico che pattina, tenere un ricordo di una vista di uno splendido paesaggio filmare il tuo fratellino che soffia le candeline del suo compleanno in breve puoi filmare tutto istantaneamente e in modo semplice, più pratico e veloce rispetto a una videocamera standard l'unico svantaggio rimane ovviamente il fatto che questi occhiali sono stati progettati da Snapchat e consentono solo di girare spot video molto brevi di pochi secondi venduti su Amazon a 229 euro, questi occhiali sono datati di lenti polarizzate che saranno anche in grado di proteggere gli occhi dal sole la ricarica avviene tramite USB e si può sincronizzare più di 70 video contemporaneamente e e Zerotech Dobby 4K Non c'è bisogno di nascondercelo Sei un grande fan dei droni e ce ne siamo accorti Se oltre ad amare i droni sei anche molto presente sui social Ecco un grande droni che ti permetterà di collegare le tue due passioni Questo mini drone Dobby del marchio Zerotech È stato progettato e realizzato per permetterti di scattare magnifici selfie Con un risultato finale professionale Molto pratico con le sue dimensioni ridotte di meno di 14 cm in totale Il drone è pieghevole e leggero In effetti pesa solo 199 grammi in totale Questo drone multirotore è dotato di una telecamera 4K E ha una modalità automatica che gli consente di seguire l'utente Attraverso diverse modalità di pilotaggio È anche in grado di individuare i volti E ha un'autonomia di volo di massimo 9 punti Venduto a 179 euro su Amazon Questo drone color ramoscello potrebbe davvero sorprenderti con la qualità delle sue foto La modalità Seguimi ti permetterà anche di mostrarti ai tuoi amici con un drone che si comporterà come un anomale domestico Se stai cercando un prodotto fotografico Perché se è un fotografo e vuoi diversificare Zero Tech Dobby 4K Selfie Drone 13 MPX è fatto per te AgP Tech Perché a tutti piace ascoltare la musica e così tante persone amano nuotare o andare a nuotare? Ecco gli auricolari e il lettore MP3 AGP Tech Waterproof L'idea non è incredibile ma doveva essere inventata Cuffie che puoi usare in acqua quando fai il bagno Grazie a un sistema di fissaggio per appendere il lettore agli occhialini da piscina Puoi nuotare molto facilmente a tutta velocità senza rilasciare il lettore impermeabile Disponibile su Amazon a soli 29,99 euro Questo strumento è disponibile in diversi colori tra cui blu e nero Questo dispositivo è venduto con una garanzia di un anno Che rassicurerà tutti coloro che hanno dubbi sulla sua efficacia e impermeabilità Il prodotto pesa solo 23 grammi e ha una memoria di 8 GB Attenzione, è destinato al nuoto in piscina Ma non è assicurato per chi desidera nuotare in mare Infatti, essendo il sale corrosivo Si sconsiglia vivamente di utilizzare questo gadget per esplorare i fondali marini Pertanto, auguriamo a tutti un buon nuoto nella musica Ecco, per oggi è tutto Spero che il video ti sia piaciuto E se così dovesse essere Non esitare a mettere mi piace Iscriverti al canale E attivare la campanella Alla prossima Alla prossima